Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è intervenuto durante la diretta Instagram di fanpage.it, spiegando il suo punto di vista sull'invasione della Russia in Ucraina. Bisogna creare un cordone che strangoli l'economia russa in pochi giorni o poche settimane ha detto Letta Putin pensa che gli occidentali sono ramliti, e la fuga dall'Afghanistan è stata determinante in questo processo. Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è intervenuto in diretta su Instagram con fanpage.it, per commentare l'invasione russa in Ucraina. Il leader DEM ha voluto cominciare inviando un messaggio di solidarietà al popolo ucraino, soprattutto a quelli che vivono da tempo in Italia. Poi è venuto alla difficile situazione che ci troviamo di fronte, spero che ci sia ancora spazio per la soluzione diplomatica, ma temo che sia minimo e ostruito ha spiegato come ci si può fidare di Putin. Ha preso in giro il mondo intero, tutti, a partire dalle richieste, dagli incontri. Gli spazi per la diplomazia sono esigui. È impossibile credere a Putin ora. Ovviamente speriamo che non ci siano interventi militari, è l'ultima cosa che possiamo sperare. Ha continuato Letta, sappiamo benissimo che anche dal punto di vista legale è molto complicato. L'Ucraina non fa parte della Nato. Tutto il mondo libero oggi gli deve inviare un messaggio alla Russia, che crei un cordone strangoli la sua economia in pochi giorni o poche settimane. È l'unico messaggio che in questo momento Putin può ascoltare. Il lato positivo, secondo il segretario del PD, è che gli europei sono stati più uniti di quanto si pensasse, senza voci dissonanti. A Bruxelles decideranno delle sanzioni senza precedenti. E ha ricordato, la Russia economicamente è debole, ma è una potenza energetica e militare. Chi avrà le conseguenze di queste sanzioni in Russia sarà la gente, ma è l'unico modo per bloccare ed evitare un'escalation militare.